Sabato 18 a Pineto va in scena la Notte Bianca, dedicata anche quest'anno per il secondo anno consecutivo, quindi seconda edizione allo sport. Perché è stata arricchita con la Notte Bianca dello sport e dello sport parolimpico. Avremo il piacere e l'onore di avere con noi la Nazionale Parolimpica Italiana e avremo l'onore di avere con noi oltre 100 società sportive che comunque si divertiranno lungo un tratto di strada di quasi 3 km. Saranno arricchite da tutti gli sport che ovviamente le società porteranno a far conoscere dalla box al karate, al calcio, al ping pong, al semplice sport comunque di danza o comunque qualsiasi cosa che poi andrà a unire. Una serata che sarà arricchita dalle ore 21 alle ore 6 e 30 del mattino. Tra gli ospiti della serata? Allora si inizierà innanzitutto dalle 22 e 30 a Commissio Adriatico, alle ore 2 del mattino avremo Filippo Graziani, alle ore 3 avremo Marco Papa e comunque a continuare ci saranno in ogni punto della città ci sarà un momento musicale con delle cover, la cover di Vasco Rossi, il cover di Lucio Battisti e comunque animeranno tutta la serata e la serata su 3 km sarà animata da tantissima e bella musica fino al concerto all'alba che si terrà alla Torre di Cerrano. Un concerto di? È un concerto di musica classica.